5 4 3 2 1 vai 100 sinistra 3 apre 50 sconnessi al ponticello sinistra 3 per destra 4 30 al muretto destra 3 2 tempi al ponticello sinistra 4 50 al cartello sinistra 3 sale 20 attenzione destra 2 sale 30 al rail sinistra 2 gira sale per destra 2 gira sale al cartello sinistra 2 taglia sale per destra 2 taglia sale 40 destra 4 30 alla barriera sinistra 4 40 al palo sinistra 3 sfiora per destra 3 apre 20 sinistra 5 per destra 3 subito sinistra 3 destra 3 subito sinistra 3 apre 30 accenno destro per sinistra 2 gira sporca 2 gira sporca per destra 3 subito attenzione chicane ingresso destro 100 attenzione sinistra 3 su pavè apre 50 alle piante sinistra 4 apre 30 destra 2 lunga gira 30 al cartello sinistra 3 apre sale 40 ai cartelli al cartelli attenzioni aимся 3 attenzione sia fifthPU carriera sinistra 3 30 al rail sinistra GOT qui per attenzione sinistra 2 apre bisogna dire 40 attenzione sinistra 2 dà 3 encara create parago in 40 sinistra 5 30 scende subito attenzione destra 3 per sinistra 2 apre taglia 50 destra 3 spiora sinistra per destra 3 lunga scende attenzione sinistra 2 per destra 3 lunga scende alla staccionata accenno sinistro 40 sinistra 3 30 destra 3 apre attenzione accenno destro per subito tornante sinistro 20 destra 3 non tagliare accenno sinistro per destra 3 attenzione diventa 2 sporca 30 al masso destra 3 10 sinistra 2 gira taglia 20 accenno sinistro per destra 2 taglia 20 sinistra 3 apre taglia 20 al sasso destra 2 per sinistra 2 gira scende 2 gira scende per destra 3 lunga lunga attenzione chiude 2 30 sinistra 3 per destra 4 per sinistra 3 apre molta attenzione sinistra 2 gira chiude 2 gira chiude 30 sinistra 3 apre 20 sinistra 3 apre 20 sinistra 3 apre per destra 5 taglia accenno sinistro 30 sinistra 2 gira spuglia destra 2 gira lunga per sinistra 3 apre 50 al tetto sfiora sinistra 4 vai 30-ugitan filkom 30 sinistra 1 gira 1 gira spuglia destra 2 gira spuglia 1 gira spuglia 1 gira spuglia 1 gira spuglia 1 gira spuglia 2 gira spuglia